Queste sono le prime immagini appunto di Vettel in Ferrari. Questa mattina alle 10 il tedesco è sceso in pista a Fiorano e ha girato con la rossa del 2012. Gomme da bagnato intermedio per la pioggia caduta durante la notte. Vettel ha compiuto 15 giri per ora a miglior tempo, 1.08.22. Girerà anche domani sempre a Fiorano. Una curiosità sul casco. C'era scritto 29 novembre 2014, il mio primo giorno in Ferrari. Varia testimonianza di un momento che il pilota quattro volte campione del mondo vuole che rimanga scritto nella sua storia. E chiudiamo anche qui con...